Ragazzi qui sul canale ogni giorno vengono fatti nuovissimi regali Se volete ricevere anche voi skin, pass battaglia e accessori vari Sarà molto facile Vi basterà iscrivervi al canale Attivare la campanellina delle notifiche su tutte le notifiche Ovviamente lasciare un bel like sotto tutti i video Condividere a più amici possibili E inviarmi la richiesta di amicizia a questo id che vedete qui Official con lao grande trattino medio firex tutto maiuscolo Vi accetterò le richieste Vi verranno fatti dei regali Godetevi il video Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Firex ragazzi e oggi sono qui per portarvi nuove notizie sulla skin di Dragon Ball Che presto sarà nell'item shop di Fortnite ragazzuali Mi raccomando like, iscrizione e campanellina attiva su tutte le notifiche Se volete ricevere regali tipo pass battaglia, skin eccetera eccetera Mi raccomando quindi iscrivetevi tutti che andremo a regalare questa skin di Dragon Ball Fatelo ragazzi perché se no non la regalerò a nessuno Ragazzuali partiamo con il video Ragazzuali abbiamo avuto nuove notizie per quanto riguarda la skin di Dragon Ball Perché si verrà messa nell'item shop circa il 19 agosto Quindi abbiamo la data precisa di questa uscita Perché si è stato confermato il leaks da Epic Games Quindi non sono più notizie casuali E' stata confermata la sua uscita e anche il giorno Perché si come è successo per la skin di Thor che è uscita pochi giorni fa Anche la skin di Dragon Ball ha un suo film e un suo fumetto annessa alla skin Che sia il film sia il fumetto usciranno tutti e due il 19 agosto Quindi Epic Games ha confermato la data di uscita per il 19 agosto Ovviamente non sarà solo una skin ma sarà un bundle quindi piccone, deltaplano eccetera eccetera Non si sa altri accessori Per ora sappiamo solo il piccone e il deltaplano C'è la probabilità che a questa skin vengono annesse anche Anche sentite bene Dei veicoli o dei consumabili Perché come vi avevo spiegato Avevano trovato quelle capsule nella creativa Che vi sto mostrando a schermo Nello scorso video ne abbiamo parlato E adesso approfondiremo meglio questa questione C'è la probabilità che quelli saranno degli utilizzabili Quindi tipo funghi, ste cose qui Che faranno spawnare delle macchine, ste cose qui C'è la probabilità che venga aggiunto un veicolo Che sarà tipo la navicella di Goku, ste cose qui Ci sono tante possibili nuove uscite Per quanto riguarda accessori, veicoli, utilizzabili tipo funghi, ste cose qua Quindi ragazzi, bellissimo Sarà un evento completo Ci saranno funghi, utilizzabili, veicoli Tantissime cose Sarà proprio un evento completo Non come è successo per la skin di Naruto Che è uscita solo la skin Ma direttamente un evento completo Quindi ragazzuoli Mi raccomando Like, iscrizione e campanellina Se volete che io vi regali il bundle Ovviamente di Dragon Ball Ovviamente Z Mi raccomando Iscrivetevi tutti Se lo volete ricevere Il 19 agosto Presto nello shop Bella raga!